Il Fat Burger, come lo slogan recita, si propone di essere The Last Great Hamburger Stand e devo essere sincero ci riesce in pieno. Tutto molto unto, tutto molto buono. La scelta è abbastanza basica, va da hamburger classici a partire dal misero taglia S fino all'ingestibile XXXL di cui tappezzano le pareti con i tipi che sono riusciti a finire il panino che è veramente enorme. A parte la Troia che ci ha servito, no Troia poverino, non è una Troia, è solo una stronza antipatica. La qualità è veramente notevole rispetto ad un fast food classico perché la carne ti viene cucinata proprio di fronte, la qualità degli ingredienti è decisamente ottima. Per il resto tutto molto unto, tutto molto buono. Unica nota di demerito in questo caso particolare è la cameriera, una ragazza di colore decisamente scontrosa. Da San Salvaggio è tutto.